Il 22 maggio del 2013 moriva in un tragico incidente a bordo della sua amata moto il sovrintendente della polizia stradale Alessandro De Bellis in forza al comando di Lucca. Per ricordare la figura di Alessandro e il suo impegno all'interno della stradale, il fratello Riccardo ha donato al comando lucchese a nome dell'associazione DB Motorsport, di cui anche Alessandro è la membro, un defibrillatore portatile. La consegna dell'apparecchiatura, donata in collaborazione con l'associazione Cecchini Onlus, è avvenuta la presenza del comandante Serafina Di Vuolo, del questore Maurizio Dallemura e del prefetto Francesco Esposito. Presenti anche familiari di Alessandro, la madre, la moglie, l'altro fratello Claudio in forza alla polizia provinciale e le figlie Valentina e Chiara. Sì, l'abbiamo donato come associazione sportiva a team DB Motorsport, di cui Alessandro era socio pilota all'inizio quando l'abbiamo aperta, quindi questo era il suo posto di lavoro, credo che sia la cosa più giusta, un macchinario che può rendere la vita a chi ne ha bisogno dato in mano alle forze dell'ordine, in nome di un ragazzo che era nelle forze dell'ordine credo che sia la cosa più giusta da fare.